No, ma infatti perché voi dicevate, cioè l'ultima volta dicevate vediamo subito il 19, il 19 è clamoroso, è bello ma non si avvicina allo scorso, dai, non esageriamo. Quindi per quanto riguarda il voto, se allo scorso ho dato 9, ho dato 9, a questo posso dare, nel senso, forse 8 e mezzo, forse, fammi rivedere, forse 8 e 25. Cioè alla fine è di preparazione questo episodio, non è che succede un granché se escludiamo la parte finale in cui Nagumo Sensei fa la figa incredibile, quindi... Eh, 8 e 25, concordo, 8 e 25 mi gusta, mi gusta, va bene così, 8,25. E per il resto diciamo che non è che c'è troppo da dire su questo episodio, diciamo che abbiamo chiarito un po' la situazione, ma non so voi, come mai secondo voi Shinpei non è così preoccupato per Ushio? Cioè mi dà quasi l'impressione che lui sappia che non è morta, che lui sappia che in qualche modo possono farla tornare, perché mi sarei aspettato un episodio in cui lui era molto più disperato, quindi o è maturato a livelli incredibili, che riesce ad accettare la morte di Ushio per un bene superiore, che è la salvezza di tutti loro, oppure, secondo me, ripeto, pensa che magari possono farla tornare indietro Ushio, perché, non lo so, pensavo sarebbe stato più sconvolto Shinpei. Ok, poi per il resto, vabbè, Aine in questa situazione sembra avere proprio tutte le, come dire, tutti i vantaggi del caso, sembra che possa vincere senza problemi, perché letteralmente Ushio è morta ed era la loro arma principale. In più ci sono più scide, cioè abbiamo scoperto che probabilmente, come ha detto qualcuno in chat, non è che ci sono delle copie, ma, per carità, potrebbe pure essere copie, però la cosa secondo me più probabile è che ha fatto più figli, è che ha fatto più figli. Quindi effettivamente lo scide precedente, scopando con Aine, ha fatto invece di un figlio, per volta a sto giro ne ha fatti tre, per questo ci sono tre scide. Particolare il fatto però che non l'abbiamo mai visti combattere, se ci pensate. Cioè, se ci sono effettivamente tre scide, perché Aine non li ha usati prima? Non lo riteneva necessario? In realtà ci sono state delle circostanze in cui sembrava, cioè, gli sarebbero serviti tre scide, quindi forse non possono stare tutti e tre insieme, non ci sono abbastanza ombre per dare l'armatura ad ogni, ad ognuno dei tre? Ce ne sono due perché tre? Perché uno è quello che è morto. Perché uno è quello che è morto. Io intendevo in questo senso. Uno è morto, l'altro è quello che è uscito... Ah, no, è vero, scusatemi. È vero, è vero, è vero, perché c'è stato il loop. Come non detto. C'è stato il loop, non c'entra niente, quindi effettivamente sono due. Però, ecco, vabbè, sia che fossero due, sia che sono sette. Perché non l'ha fatta prima questa cosa? Poteva, ripeto, tornare molto utile nei loop precedenti, usare due scide invece di uno. Penso che avrebbero stravinto. Anche lui dispone dell'armatura, essendo entrambi l'entità scide. Ok, allora perfetto, perfetto. Io credevo che l'armatura la tasse Aine. Cioè, credevo che l'entità scide fosse un uomo normale. E l'armatura la desse Aine a loro. Magari questa armatura rende il suo corpo una parte della bestia che è scide e quattro braccia. Tipo una fusione temporanea. Non lo so. Stavo aspettando il momento in cui Shinpei non poteva più morire perché si è trovato al limite del suo potere. No, ma infatti sicuramente è così. Possiamo rivedere la scena in cui prende la martellata in testa. Perché scide si smembra per tornare vicino Aine. Ma l'ombra dovrebbe essere solo un'armatura. Effettivamente perché vi ho detto che pensavo che fosse morto e che era troppo P? Perché dalla scena che hanno fatto vedere effettivamente nell'episodio sembra quasi che Shide renda il corpo, l'armatura, che è l'armatura di Shide, renda il suo corpo immortale. Infatti rivedendo questa scena si vede proprio che Nagumo Sensei gli sfonda la testa ma nonostante questo riesce a riassestarsi da un'altra parte. Quindi è molto particolare. Era effettivamente un po' fraintendibile come cosa. Eh, o forse era nella parte inferiore. Però diciamo che da come si è vista la scena sembrava una cosa strana. Per quello avevo detto, ammazza, ma lo rende... Capito? Guarda qua. Cioè, se vedete qui è pure a rallenty. Non lo so, fanno quasi vedere... Non ti fanno ovviamente vedere in che posizione si trova il corpo, però fanno quasi intendere che appunto l'ha ammazzato. Se non fosse che poi appunto si ricrea a fianco a Daine. Quindi sì. L'avrà ammissato, avrà... Si sarà... E però capito, cioè in realtà non si... Non si vedono nemmeno i pezzi del suo corpo. Cioè quindi forse l'armatura si unisce al corpo umano. Si unisce al corpo umano di Shide e diventano un tutt'uno. Cioè perché guardate, nel senso si ricrea dal nulla. Si ricrea partendo dai piedi per arrivare fino alla testa. Quindi non sembra proprio che il suo corpo rimanga intatto all'interno. Quindi sì, penso che ce lo spiegheranno nel prossimo episodio. Call of the Night è già fatto? No, lo facciamo adesso. Call of the Night lo facciamo adesso. Forse non ha un corpo umano? No, ce l'hanno detto che ha un corpo umano, Shide. Cioè il tizio del coso, cioè dovrebbe essere un ragazzo, un essere umano normale che ha un'armatura. Sì, secondo me si fonde. Secondo me la cosa più probabile è che si fonde con l'armatura e acquisisce quindi questi poteri particolari, questa semi-immortalità. Quindi niente, sono curioso di vedere cosa faranno i Kumo Sensei, ma adesso passiamo a Call of the Night. Non ci hanno dato, cioè non è che lo devi capire a prima vista, però non ci hanno nemmeno dato a noi degli strumenti per poter provare ad andare ad esclusione. Ad esempio questo tizio nuovo, questo ragazzo, potrebbe essere un vampiro? Si aggira di notte, Nazun adesso l'ha squadrato, sembrava che lo conoscesse già. Quindi capite che, come facciamo a capirlo? Non ci hanno dato nessuno. A parte la cosa degli specchi, che sì, però non credo che il protagonista si metta a giraco a vedere se si riflettono negli specchi. Oppure forse la cosa del giorno, però anche la cosa del giorno non ce l'hanno detta. Cioè non c'è stata mai nessuna frase in cui hanno detto se usciamo alla luce del giorno veniamo bruciati o quello che è, quindi... Non lo so, diciamo che forse sia per quanto riguarda la parte dell'innamoramento, sia per quanto riguarda la parte del funzionamento di come riconoscere i vampiri, di cosa fanno, quali sono le loro debolezze, manca ancora un po'. Per quelle cose lì ancora serve che ce le approfondiscano. Sì, gli episodi di Call of the Night volano, assolutamente. Eh, ma infatti tu dicevi Rant merda, però in realtà guarda Otaru zitta zitta, zitto zitto Rant nel penultimo episodio è stato bello e ha tirato fuori cose interessanti con Mami. Beh, ste personaggio a mani basse, penso che te ne sarai risa conto pure te, l'unico personaggio che forse fa qualcosa di decente. Però, però vabbè, nel senso... Quindi questo è stato l'episodio. Eh, capito, abbiamo anche visto una... Cioè almeno a me mi ha dato l'impressione che l'abbiamo vista alla luce del sole, Nazuna. Però mi pare che quando ve l'avevo detto, voi mi avevate detto, vabbè, è luce soffusa. Cioè in realtà non è che il sole la sta colpendo direttamente. Però se vi dovesse dire attualmente, l'unica cosa che ci hanno fatto capire dei vampiri, dei vampiri, è che Nazuna, cioè che i vampiri in generale non vengono riflessi negli specchi. E manco in tutti gli specchi, cioè non come riflesso in generale, solo negli specchi. E per il resto non c'è nient'altro. Quindi sì, secondo me devono approfondire un po' la cosa dell'innamoramento, che sinceramente non la trovo come una roba scandalosa il fatto che per ora non l'abbiano detto. Cioè, così come esistono i vampiri, e non è che hanno dato una spiegazione scientifica per cui esistono i vampiri, esiste questa cosa che per trasformarti ti devi innamorare. Anche qua non hanno dato una spiegazione logica dietro a questa roba qua, né sul fatto che ti devi innamorare, né sul fatto che ci deve voler un anno massimo. Quindi non mi aspetto che lo spiegheranno. Cioè, potrebbe tranquillamente essere una cosa che la lasciano stare così. Per quanto riguarda invece l'episodio in outsourcing, non pensavo. Cioè, mi sembrava sinceramente un episodio normale di Liden Film. Sì, in alcune parti sembrava meglio del solito. Comunque ha mantenuto una qualità più costante rispetto ai normali episodi, ma non sarei mai stato in grado di dirvi sì, questo episodio l'ha fatto in un altro studio. E comunque fa ridere, effettivamente, perché Liden Film è uno dei pochi studi che, quando si fa aiutare da altri studi, sono studi migliori di lui. E quindi fanno episodi migliori. Bello. Ripeto, se questo tizio fosse un vampiro, non ci sono poco indizi. Non lo potremmo mai scoprire, a meno che non ce lo dice l'anime. Quindi per quello la ritengo un po' una mancanza. Cioè, ogni volta che ci presentano nuovi personaggi, a meno che non ci viene detto, o non è palesissimo, tu tanto non lo puoi capire. Quindi o aspetti che te lo dicono, o ti attacchi al cazzo. Quindi non ci sono alternative. Quella roba dell'acqua era strana, se no prima la rifletteva e dopo no. Boh, nel senso... Non mi pareva in realtà che la riflettesse. Cioè, scusami, nell'episodio precedente, era l'episodio... Forse era l'episodio 6, quello dell'acqua. Aspetta, fammi vedere, quello della piscina. Sì, mi pare fosse l'episodio 6. Scusatemi, in questo episodio qua, Prima... Tu dici, prima la riflette e dopo no. Ah, è vero, qua non la riflette. Ma allora è un errore, è un errore. Qua non la riflette quando gli succhia il sangue e poi qua la riflette. Ma come fa ad essere un errore, perdonatemi. Cioè, non dovrebbe. Ma ti pare che hanno fatto un errore del genere? Mi sembra veramente una roba talmente grossolana e stupida che sarebbe alquanto... Non lo so, sembrano proprio coglioni. Ma come hai fatto a fare un errore del genere? Eh, no, infatti, come dici tu, il contrario. Quindi, com'è possibile che prima non la riflette e dopo sì? Cioè, già questo avrebbe più senso. Perché effettivamente, se non sono solo gli specchi, ma è qualunque tipo di riflesso, allora tu ce l'hai un modo per riconoscere questi vampiri. E già lo apprezzerei di più. E quindi, boh, mi sembra un errore, non lo so. Però vabbè, dai, lasciamo stare sta cosa. Quindi, per quanto mi riguarda, Call of the Night è sempre all'altezza delle aspettative. Sempre belli episodi. Approfondiscono nuovi personaggi. Presentano nuove cose. Sono episodi chill, carini, mi piacciono. Aspetto solamente il momento in cui approfondiranno forse un po' di più la questione dei vampiri, perché, innamoramento a parte, che non mi aspetto di ricevere particolari informazioni, secondo me è un po' il mondo dei vampiri, il funzionamento, come magari anche Nazun è diventata un vampiro, se lo è sempre stato, se lo è diventato dopo. E vabbè, lo è diventato dopo, lo sappiamo. Sì, queste cose, una volta che le approfondiranno, sarà decisamente meglio. Quindi, stiamo a vedere. Non so bene che ruolo avrà lui, se è un vampiro, se quella tizia con cui stava lo sta per far diventare un vampiro, boh, non lo so. Anche per quanto riguarda quello che dicevate voi, e che vi ho detto anche io, non mi piace molto l'uso che stanno facendo, però, delle colonne sonore. Cioè, hanno letteralmente una cazzo di band alla quale è stato ispirato il nome di questo manga, dalla quale prendere tutte le canzoni che vogliono. Non mi puoi usare sempre la stessa canzone, cioè, uno spreco. È la terza volta in... o la quarta. No, la terza. Mi pare la terza volta che sentiamo questa canzone. Come minimo la terza, forse quattro volte, che in otto episodi sentiamo questa colonna sonora. Cioè, ogni volta che c'è una scena bella, parte sta colonna sonora. È bella è tutto, però, cioè, ormai ci siamo abituati. Cambiatela. Fate... Cioè, avranno... Avranno fatto altri canzoni questo gruppo del cazzo. Fateci sentire altre canzoni, anche perché se l'autore ne va così tanto matto, o magari se le vuole tenere, ste canzoni, non vuole sprecarsele subito tutte, però, per quanto mi riguarda, vorrebbero pure alternare. Magari per questa prima stagione si tengono due canzoni da alternare, due insert song da alternare nelle scene belle. Nella seconda stagione, se mai ci sarà, ne prendono altre due, perché, più che altro, sentire sempre la stessa è un po'... ridondante.